Per The Reporter, ecco una nuova segnalazione di un nostro telespettatore. Non c'è fine all'abbandono abusivo dei rifiuti. Nel filmato amatoriale Inviatoci, il nostro amico si trova sulla via Lombare da Lammari, dove a due passi da un blocco di abitazioni, campeggia al sole un televisore. Gettato con ogni probabilità da un'automobile, con l'incuranza tipica di chi probabilmente se ne frega dell'ambiente o di chi vive in quei posti, ma la cosa ovviamente non finisce qui. All'incrocio tra la stessa via Lombarda e via Selmi, ecco un nuovo eclatante gesto di inciviltà. Nonostante l'aria sia trapprezzata di cretelli che vietano l'abbandono di rifiuti, c'è chi ha pensato bene di sfarsi dei più disparati oggetti incuranti della segnaletica, dall'immondizia insacchettata ai pneumatici usati al mobiletto logoro di casa. L'appello che noi tutti facciamo è quello di non chiudere gli occhi e se si nota un incivile abbandonare o addirittura gettare dall'auto la spazzatura, prendete il numero di targa e segnalate alle autorità competenti. Grazie a tutti!